Benvenuti o bentornati a un nuovo video, io sono CinaBiondo e primo video standard con Kaldheim. Per chi non lo sapesse, il mio mazzo preferito in assoluto negli ultimi standard è stato Raktos Sacrifice. Purtroppo già il banner di forno ha sempre fatto tanto e quindi vabbè. Oh, nuove carte, nuova vita. Quindi anzitutto, non posso non dire che cacchia ora questa carta qua è rotta. È un piccolo Dream Troller, in quanto è un 3-3 costo 4, volare. Quando si tappa, esiliamo una carta da uno dei due cimiteri, quindi anche dal nostro, in caso dobbessimo giocare contro Rogue. E mettiamo un segnalino più uno più uno, sacrifichiamo un'altra creatura. Oh, diventa indistruttibile fino alla fine del turno. Questa, fortissima. Veramente, questo era il drop che mancava a sto mazzo. Perché uno è un sacrificante in più per i vari claim a Crown War. E secondo poi picchia come un pazzo perché vola, eh. Il fatto di volare molto spesso è sottovalutadissimo. Poi, a Crown War appunto, partiamo dalle carte costose sto giro. È una saga, quindi ogni turno la pescata va su di un segnalino. Con il primo segnalino, rubiamo una creatura che vogliamo. Con il secondo segnalino, l'avversario deve attaccarci per forza con tutte le sue creature che possono attaccare, chiaramente. Quindi non i difensori. E con l'ultima, ogni creatura tappata ti fa danno da solo a parere alla sua forza. Questa è una carta che ribalta i game, ribalta le partite. Perché, visto che adesso abbiamo molti più sacrificanti forti, abbiamo anche questo predatore qua. E semplicemente noi, magari a un turno 4, gli rubiamo un pezzo. Il turno dopo ci attacchiamo. Il turno dopo, quel turno lì facciamo o predatore o strider o village rights. E poi, lui deve attaccarci per forza. Abbiamo tante bestie in campo. E puliamo il board e vinciamo. Questo è il piano. Game night calls the dead. Io con questa carta qua non ho un grande feeling. Perché io crocs di quarto non riesco mai a farlo. Però, se siete voi forti, magari lo sì. A me me lo fanno sempre. È una saga nera, costo 3. Con l'1 e il 2, con 1 e 2 segnalini, milliamo 3 carte al nostro mazzo. E possiamo esiliare dal nostro cimitero. O una creatura, o un incantesimo. E faremo un 2-2 zombie token, facilissimo. A3 fa una cosa che, anche qui, è un po' sottovalutata. Perché guadagniamo x vite pari al numero di zombie che controlliamo. Non è da sottovalutare. Soprattutto in questo momento che il meta è anche abbastanza aggressivo. E poi facciamo anche scry x. Pari al numero di zombie che controlliamo. Quindi, la scraiata è sempre un effetto molto, molto, molto forte. E molto, molto pericoloso. Buon Crusher Giant. Immancabile. È la carta più, probabilmente, più giocata di Eldraine. Perché o spara due e l'avversario non può prevenire. Oppure è un 4-3 che se lo bersagli fa due danni a chi l'ha bersagliato. Poi, Croxa. Il nostro buon giganterlo. Anche qui, sarà che si è... Oh, è un po' offeso. Però ultimamente non abbiamo molto feeling. Non lo faccio quasi mai di quarto. Però, anche qui. Se avete feeling voi, meglio per voi. Che fa di bello? Quando entra e quando attacca, l'avversario deve scartare una carta dalla mano. Se quella carta che ha scartato è una terra. Oppure non ha carta da scartare, perde tre vite. Lo escapiamo con quattro. Due neri specifici e due rossi specifici. Lui di base è un 6-6, è a costo due. Valky, God of Lies. Ah, ah, ah. Eccola qui. La carta più, forse, in hype di questo set. Forse solo dopo a Tibalt's theory. Che è sempre Tibalt. In passato hanno fatto pochi Tibalt forti. L'unico giocato era quello... L'unico veramente tanto giocato e tanto abusato è stato il Planeswalker a costo 3. Di World of the Sparks. Perché non faceva guadagnare le vite all'avversario. Però... Oh, questo è un 2... Innanzitutto è un 2-1, costo 2. E quando entra il suo campo di battaglia, l'avversario rivela... Ogni avversario rivela la sua mano. Quindi hai Multiplayer Commander. E per ogni avversario esiliamo una creatura dalle loro mani. A costo X. Scegliamo una creatura di quelle che abbiamo esiliato. Con Valky, chiaramente. Con il costo di mano è convertito a X. E Valky diventa una copia di questa. Oh, in... Ragazzi, sapete che in Historic può copiare Uro? Ah. Secondo me sarebbe stato ancora più forte... Se la carta fosse stata esiliata per sempre. Però... Non avrebbe avuto drawback. Quindi ci sta. Quando muore, quella carta lì che abbiamo esiliato torna in mano all'avversario. Poi, il Tritone. Questa è una carta che a me è sempre piaciuta tantissimo. Sempre stata molto sottolotata. Però, innanzitutto, è un 2-1 con questo 2 con Death Touch. Con tocco letale. Quindi è già forte di suo e dà fastidio ai mazzianti. Poi, quando entra il suo campo di battaglia, milliamo due carte dal nostro mazzo e guadagniamo due vite. Stra-sinergico. Poi, il buon claim of the firstborn. The firstborn, non of. E... Oh, questa guadagna... Prendiamo il controllo di una carta. Di una creatura costo 3 o meno. Questa ha rapidità fino alla fine del turno. Quindi, molto spesso ci attacchiamo. E poi facciamo Village Rites. Ovvero, come costo addizionale di questa carta, sacrifichiamo una creatura. Quindi, anche in caso di counter, la creatura l'abbiamo sacrificata. Però... E poi, perché è un costo addizionale e non è un target. Vorrei far capire la differenza. E poi, pesciamo due carte. Perché se fosse stato... Distruggi una creatura che controlliamo a bersaglio. E poi peschiamo due vite. L'avversario poteva anche fare la rimozione sulla carta che abbiamo distrutto noi. Per... Fizzare, diciamo, per... Togliere target valido a questa carta qua. E non farci pescare. Invece, essendo un costo addizionale della carta, fa parte del suo costo. Quindi, noi paghiamo uno. Sacrifichiamo una creatura. Ed è già fatto. E poi peschiamo due. E poi c'è il nostro Geganta. O Getagna, come lo chiamano i miei amici. Che è il Companion Phil. Può entrare in qualsiasi mazzo. Tanto basta che non abbiano... Troppi costi doppi. Quindi, va bene. La side, chiaramente, si cambia in base al meta. Attualmente, mi è sembrato di vedere che il meta, almeno la mitico, è molto... È abbastanza creaturoso. Ci sono ancora pochi control. Anche se, a parer mio, Abzan Doom è un mazzo. E niente, come al solito, prima di iniziare il gameplay, il video è supportato da Multiverse of Games. Il mio negozio di fiducia di Cesano Baderno. 270 metri quadri. E fanno tutto. Yu-Gi-Oh! Magic. Pokémon. E, come ogni negozio, è un po' in difficoltà. Poverini. E... Boh, se avete modo di passarci, volentieri. E farò anche il mio primo video unboxing. Perché sono riuscito a farmi dare un box. Questa... Questa mi sembra che si equipi, dove non è? Beh, è... Blanco. Gioca l'Urrus. Quindi adesso mi fai drop a due. Ah, gli angelini mi giochi, maledetto. E giocherai gli angelini. Ah, sei ciclo! Minza, davvero la vita che non ti vedevo. Sono pinguino. Bellissimo. Eh, che bello! Ma che bello l'orsetto che si mangia le cose. Diventa un... Ma i tassi, cazzo. Qua sono partito un po' lento contro ciclo, eh. Bisognerebbe andare un po' più... Alla svelta, diciamo. Eh. Io spero che mi faccia almeno un droppino. Almeno gli spacchiamo quello. Quello? Non so se fare team retto bonecracker in caso... Eh, vabbè. Eh, vabbè. Ciclerai. Wop. Vabbè, io te lo faccio. Tanto il prossimo turno bonecracker non fa danno. Quindi mi sa che è molto meglio fare team retto. Anche se... Ah, fare più droppi possibili è meglio. E poi fare subito il predatore che è fortissimo. La carta è veramente incredibile. Pretone. Possiamo puntare a fare crozza. Avessimo fatto il 2-1 di secondo. Però, non è andata così. Allora, la sua è la versione... Quattro colori, credo. Ormai un zenith ce l'avrà già in mano, sicuro. Bene. Vabbè, crozza. Siamo... Sì. Non saprei, sapete. Però... Mi sembra troppo più forte fare... Il... Il predatore, no? Anche perché poi è invincibile. È... È troppo forte. Perché sacrificiamo a pezzo diventa indistribile. Contro la maggior parte dei deck è invincibile. Muore da Skycliff, apparisce. Vabbè. Come un sacco di roba. Come un sacco di... Ogni volta che lo butti giù. Se non è una carta nuova, la gente te lo legge. Vabbè, Cicla ci sta. Quella lì è una carta inutile. Adesso comincia... Quel zenith lì comincia a fare sette pigne. E non so un po' che... Io metto l'autopass. Però contro Ciclo mi sa che è brutto come matchup, eh. Cioè, io devo spingere come impazzi. Però lui comunque ha quella cosa che mi ribalta. Tanto, comunque Crozza... Crozza, il prossimo turno lo faccio. Ecco, mi piace... Eh, non lo so. Comunque anche a Cron War e Claim contro di lui non sono male. Io speravo in un volpino. No, sì. Esilia pure. Eh sì. Fa anche quello. Sì, sì. Mettiamo in fondo che non ci servono. Io queste le girerei tutte. Ho fatto pure girare. Bene, bene, bene. Vediamo lì qualcosa. Mi può sparare adesso un zenith in realtà. Holy moly. Va bene. Io mi saccherò uno di questi. Dovevi farlo secondo me prima della combat. Così non ti pigliavi questi quattro danni. E un altro? Ti giuro che stacco pure l'altro. Eh, tiriamo un zenith gigante. Eh, tiriamo un zenith gigante. E le per le ho. No. E che fanno scartare? Non è così forte, eh. E che mi devo settare le tali il tono dopo Però mio Mo un zentro me lo devi fare Da quanto me lo fai? Da 8 Da 9 Ah mi puoi dare un overcrox Ci sta Mamma mia se accetto The village rise Non guadagni neanche le vite così Olio colato Quanto sta Purtroppo non sono letali Quindi Portare un po' avanti Questo che ti fa guadagnare le vite Anche se non cambia più di tanto Go Eh devi farmi un'altra flare Se fai un'altra flare sei forte Arca vacca Io per sicurezza Di questi magari lo faccio Vabbè sono letali comunque per me Rianimerei Crocta E farei claim Che paura comunque BAM E dai eh Mese Sto a me da fare Mille e due dura Uh 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 E se è un mazzo Che mazzo è? L'urrus Schippo allora Se c'è l'urrus Schippo Caccarola Sei Sei rogue Questo mazzo da rogue Dovrebbe essere Quasi contento Vi vediamo No? Sarei più contento Sì Il granchietto E fammelo sto granchietto Hai capito Chi sono Vero? Eh lo so che hai capito Allora facciamo Claim L'ho fatto più che altro Perché volevo pescare Non per rubare il granchietto Che tendenzialmente Fa il nostro gioco Allora qua Abbiamo più giocate In realtà Possiamo fare Anche timaret Anzi Facciamo più timaret Che un altro petto Questo ce lo deve Counterare Eh Se non hai Counterato male Perché mi permette Di cercarmi croxa Ho millato Ho tolto Doppio granchio Quindi adesso Difficile per te Vincere di mille Mamma mia Ho che preso male Che sai che giochi I mazzi vecchi Eh Nicciocco Nicciocco Dai croxa Esiliami un bel croxa Bravo Ti manca anche la quarta terra Interesting Interesting Va bene Quindi croxa Mi entra E ti dici Pescarci due Beh croxa Se entra Fa comunque Il due per uno No Ah non è Hai pescato la terra Maledetto E stai Open Drone in the lock Che giocatore Incredibile Oh 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 Shit Holy Shit Che forte Eh Capita Forse ne millavo un altro Però me lo meritavo Un po' Me lo meritavo Di farne un altro Allora Faccio tante giocate forti Questo la vorrei giocare per togliergli l'urrust Quindi Per massimizzare Questo è un pezzo che lui non toglie mai però Intanto attacchiamo col 2-2 Potrebbe fare blocco pesco Pam Eh Far fresco fare lui Perché è un Pezzo che per lui è invincibile Mi sembra invincibile no? Eh Leggila Leggila Non so se posso esiliare anche le mie Ah Greyyard Ok Esilio le mie Che cacchio Qua Era forte Girare già subito un altro croc Però se lui mi attacca Non penso Se mi attacca No Non gli conviene attaccarmi Miopo ci pensa Ardentemente Sì Probabilmente Pazza Oh Attacchi Finchè che rischio Ho capito che vuoi ciclare Eh Però è un rischio secondo me E Sì Sì Vabbè Sacrifico uno di quelli Non avevo capito Guarda Questo è già a due Però Io esilio cling La terra non la vogliamo Eh Sarei anche un po' curioso di vedere cosa c'ha in mano lui Sono sincero Fammi vedere che c'ha in mano Ah Ok Mai un croc Eh Never ha croc Tanta Tanta roba Eh Allora mi piazzo pure io Scusa Eh Chisa Mi sa che dobbiamo starcene un po' indietro Beh Lui se fa quello Ma Sì no Attacchiamo Che stiamo indietro Ma come dove quando Cazzo Preferisco attaccarlo Lo costringo a fare un blocco Cerco di costringerlo a fare un blocco Lui mi ne gira nove Il prossimo turno Ovvero similmente dovrebbe fare Into the story Io ho comunque una carta Io l'ho tolta Allora non è bellissimo Perché effettivamente Lui mi gira un stacco di danni in più Però se mi gira tutti questi Tanto Val Che blocca Tiff Può essere comunque Ah me la fa così Ah Da Seven or more Marto stai qua Non lo so qua eh Scusami Questa non è la settima carta È un po' baggatino Secondo me non si è un po' baggatino eh Qua mi merita un claim Claim qua lo mando su Marte Anche che mi esili tipo un Croc Che ci ho eh No no Ho tanti altri di Croc Va bene Ho un mano Non me lo può aspettare Quattro carte in mano Ai 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 Quel Fabled fa tantissimo Ah No la capretta La sacchiamo No Eh removal Ma io lo spero che tu mi fai removal eh Così mi sacco Zombie di merda Uh Un altro di questi Può essere forte Però no Io voglio claim Io voglio i claim Qua ne sono state esiliate solo due Claim Porta miseria Dai che lo so che c'è counter Oh Oh quella lì Eh va bene Non c'è che le sacco anche con lui però Ecco un palco Lo facciamo girare Mmm Granchietto male Non sono mai felicissimo di vedere Granchietto Eh Anche il fatto che peschi Non sono mai felice Eh Io vi giuro Io ho altri crocs nel mato E non dovrei Lui prossimo turno Deve girare tutti Siamo prima a questo E se giro un crocs Ai faccio crocs Ok Crocs ha fatto il suo Lui sto giro Mi deve girare per forza tutto Quindi con Valky blocco qua Con il mio 2-1 blocco qua Questo blocca qua Questo blocca qua E vabbè 1.3 E vabbè Oh yeah Crocs ha Com'è Ehm Sì Adesso Girare tutto E io giuro Te Loco Ehm Pesca Bene Allora Se mi fai emozione Lì è forte È molto forte Perché io sono costretto a Saccarmi Il suo Tiff Farmi rimozione Il suo predatore È forte Comunque qua Adesso Pescare anche Una terra Non sarebbe male Comunque Comunque in end Andrei a A sacrificarmi Soaring Tiff Zì Non è che c'è Tanto da pensare Tu devi farmi Rimozione Da qualche parte Vedi te dove Puoi massimizzare Il danno Dovresti massimizzare Il danno Spaccandomi questo Perché lo tappi No? Come con Dream Troller E tenerti Un'altra Rimozione Per ritapparmelo Dopo E farmi altri Danni Ancora Uh Lul Mage Domination Molto forte Anche questa Giocata Me lo devo Saccare Molto forte Questa Giocata Non so Se sapeva Che potevo Fare questa Cosa qua E comunque Devi girare Tutto Diventa Un 6 6 Bam bam Ok L'altro Croc Blocco Così Così Peschi Posta Peschi Ok Svolviamo Il rastro Dei danni Vado a 10 Prima del My turn Devo Ascarti Questo My turn Dovrebbero Essere Letali Ah no Che cazzo Lui mi può fare Un 1 1 E fregarmi Però io Pesco To bone Crusher Sono troppo Forte Quanto fa Quanto fa 10 11 Attacchi Sono 11 Yes Che fatica Qua Contro Rogue Pensavo fosse Molto Molto Più semplice Il matchup Drop a 2 Drop a 3 Drop a 4 Possibilità di fare crocs di quarto Però io In quella giocata lì Il crocs di quarto Non ce l'ho molto Non è nelle mie corde Va bene Io faccio questo Eh Anche Valky Non è brutto Visto che giochi rosso RG Cosa sei? Chi sei? Chi sei? Ah Siamo un aggrino Il tono Mi sembra forte Arca vacca Eh Bone Crusher Al cimitero Non è mai bello Stinking Vuoi farmi 3 danni? Urfu Bene Giuro che blocco l'altro Ne fai 6 Wow Me ne fai 6 Mi fa diventare un codardo E ne fai 6 Eh Questi sono tanti danni Purtroppo È brutta brutta Perché il prossimo turno Potrebbe addirittura Farmi anche Clava Quindi Adesso È brutta brutta La Crown War Sicuramente Purtroppo Potevo essere più forte Di solito Non è un brutto Matchup Anche perché Teoricamente Avrei Clay Ma anche per Rimuovergli le cose Il prossimo turno Già Arrivare a un prossimo turno È buono Non sarebbe Male Wow 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 Eh Me ne giri altri 6 Farca vacca Sì Farca vacca Sì Quel pezzo lì Lo devo per forza Rubare Con la Crown War Forse addirittura Il Brushfire Adesso Stare un po' In difesa Forse addirittura Brushfire Dovrei rubare Perché Questa Non la posso Mai bloccare Lui Non la posso Mai bloccare Con i pezzi Che ho in campo Il prossimo turno Fare Terra tappata Predatore O se ho Una terra Stappata Preferisco Fare West Rider Comunque il prossimo turno Guadagna Una vita Probabilmente Guadagnerò Una vita Probabilmente Non è male Sì Direi che blocco Lui Lui Il prossimo turno Deve attaccarmi Per forza Ai 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 O 5 5 Tanta roba Aspettare Non le vogliamo Riesco Bloccare Col mio pezzo Il suo pezzo Così brutto Non è Mi sa che facciamo Predatore Direi di sì Direi di sì Dipende adesso Che giocata fa lui Se già mi fa Una terra rossa È un problema Ok Comunque Mi devi girare Quei due pezzi Lì Io li farò Blocco Blocco No vediamo In realtà Non è detto In realtà Non è detto Potrei fare anche Doppio blocco Stacco lui Doppio blocco Doppio blocco Sacco di là Doppio blocco Sacco di là Per sicurezza Potrebbe giocare Melma Quindi Tolgo le creature comunque la removal potevo fare anche solamente doppio blocco forse era molto più forte facciamo che c'è una carta preferisco farti Woe Strider poi posso fare blocco blocco e anche se c'hai clava comunque prenderò i danni ma non mi muore il pezzo e il datore è bella carta il prossimo turno ritiriamo croxa se ci sarà un prossimo turno lui gioca gruel vecchio stile ah c'hai clava allora c'hai la clava blocco così va bene va bene mi sa che rosto 0-1 non prendo manco danno che strana giocata beh qua croxa non te lo toglie nessuno eh eh un po' di pressione va messa perché sennò non la vinciamo più piuttosto faccio blocco così e sacco voi strider va bene non fai niente va benissimo eh eh si zi giuro che il prossimo turno croxa ti viene a trovare ok allora blocco e mi sacco voi strider 10-6 mi fai 4 danni va bene va bene va da 7 eh lui ti viene a trovare sicuramente ok sento questi 6 danni adesso mi sa che la giocata più forte è fare way strider no? così facciamo tanti bloccanti forti vai anche perché se tanto anche se mi fai fetch attacchi qua non ti bastano per vincere credo questo è forte meno male che c'ho in mano way strider meno male meno male anche che c'ho villagerites tra l'altro chi mi rubi? eh purtroppo lui non te lo posso fare oh shit ho vinto good game sembrano letali che fatica anche questa che fatica dai 99 ci siamo ci siamo ragazzi spero che vi sia piaciuto il video come al solito vi chiedo di mettere un like commentare iscrivervi al canale ho visto che il mio video del turn 2 Ugin vi è piaciuto tantissimo quindi ragazzi ciao ci vediamo alla prossima e sto brufolo qua che c'ho sul naso non mi scompare se mi dite come fare grazie 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 a tutti